Oltre 2.000 migranti soccorsi in 48 ore da guardie costiere e marina militare nel canale di Sicilia e complice al mare Calmo, nell'ultimo periodo si sono moltiplicate le partenze dei barconi, soprattutto dalla Libia verso le coste siciliane. C'è stata anche una vittima, un libico appunto, per l'inanazione di vapori idrocarburi, mentre torna a riaccendersi la polemica sull'assenza di politiche serie e concrete per fermare la nuova invasione di clandestini sulle coste. Sbarchi, affermano gli esperti, destinati ad aumentare, considerata la situazione di instabilità politica della stessa Libia, e da qui allora la necessità di prorogare l'operazione Mare Nostrum. L'Unione Europea, infatti, dovrebbe riconoscere il ruolo importante del salvataggio in mare e valutare seriamente e con urgenza altre forme di protezione dei migranti in paesi di transito e comunque lungo le rotte della cosiddetta speranza. La nuova massiccia ondata di migranti, tra l'altro, sta mettendo a dura prova la capacità di accoglienza dei centri siciliani, tra i quali anche quello di Pozzallo. L'anno scorso, gli arrivi in totale lungo le coste dell'isola sono stati 43.000 e, continuando di questo passo, la quota sarà ampiamente superata. In questi primi tre mesi del 2014 sono sbarcati 8.500 migranti, oltre 10 volte di più di quelli registrati nel stesso periodo del 2013. L'unione Europea